Grazie 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 Non ti fai domani a carimento Mi chiamare Mi chiamare Mi chiamare Ma dove hai senza extra Ti perdono perchè non c'è l'extra Scarmiando Secondo me quello la fa Se la persona giocava il male e se la persona giocava Draco Si fanno tipo E che fai Giunga rubi Mamma mia Un inserito che ci scrive E' una carta troppo forte E' una carta sbagliata Non vuoi sbagliata E' terraformica che è iniccata No punto che è iniccata No perchè tu te ne hai tu non l'abbassata Ma che fai? E' un passato da magia Se la testa è fuori Magia carma E' una terraformica che chi ha? E' una carta E' questa perché si accanto da moglie E' un passato Non so E' un passato Se ti è andato al cintaro il materiale non se ne va? No no rimane Non so E' un passato Sparco Uno Uno Non so E' un passato Ah lui spargli di un sottosire Sì, se viene spaccato, spacca un vostro. In posto di spaccarlo, mando un magician che ammazza il cimitero. Siccome la trappola ne ha vissuto solo uno, mando lei al cimitero. Perfetto d'altro. Ah, tagliato. No. Ragazzi, intanto siamo. Ma qualcosa se la spacco? Cosa? No. Quella tecca. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti